Arrivano i primi moduli a carcere di piazzale vittime del dovere che saranno montati entro luglio. Ne consegue che il nuovo padiglione in corso di realizzazione nel petenziario Peligno sarà pronto per il 2020 e il segretario confederale Wilma Ronardella a fare il punto sull'ambiamento dei carceri di Sulmona, non senza rimarcare però che all'aumento di circa 200 retenuti deve necessariamente eseguire un potenziamento della pianta organica. Il nuovo padiglione riuscirà ad ospitare circa 700 reclusi. I primi moduli prefabbricati sono arrivati presto la struttura e presto saranno montati spiega Nardella. Entro luglio dovrebbero completarsi le operazioni della loro posa in opera salvo poi passare alla fase di completamento. Entro la metà del 2020 dovrebbe essere pronta quella che sarà una struttura avveniristica e capace di ospitare ulteriori 200 detenuti e a riguardo il sindacalista chiede come previsto il potenziamento della pianta organica della polizia penitenziaria con almeno altri 40 agenti. L'impegno che Sulmona sta mettendo nella realizzazione di questa importantissima opera non può non essere ricambiata attraverso una concessione che le varie realtà amministrative devono dare a questo territorio. Una realtà così grande dal punto di vista penitenziario non può non prevedere un aumento della demografia attraverso l'arrivo di ulteriori rinforzi nonché una rivisitazione delle piante organiche delle altre realtà di polizia insite nel territorio peligno.